Ciao a tutti ragazzi bentornati in questo nuovissimo video, sono Zigoggio e siamo ritornati in questo nuovissimo video su Brewstars iscrivetevi al canale, sto con mio cugino su Drake e come avete visto il titolo è Porto Bull al grado 18 e se riesco faccio qualcosa in più, comunque non parlo perché mi concentro però se c'è qualcosa in commentare dico è il titolo di nuovo atti quattro gesti Ok, non ho fatto vedere. Ragazzi siamo giusti in tre squadre e noi ne abbiamo tre power up No come? Ok, ha finito la bibita, la posso andare a pushare ragazzi, tanto Rani rilascia il compagno non ci credo, adesso la tede è sciotta, Ale come l'ho chiesa male ragazzi, vabbè comunque ce la possiamo ancora giocare, prendo io, prendo io Ok, forse non laga più Madonna io sono 17 e non posso perdere Non mi carisco perchè mi sta laggando Perchè non posso fare video lunghissimi Perchè c'è youtube che non mi impedisce Quindi Niente facciamo Arriviamo a 5630 coppe Perchè E poi Così Continuiamo il modulo Io ragazzi non registro tanto perchè È Da fare Ma Se devo registrare registro tanti video Quindi faccio giù me l'opera Anche Questa C'è tanto che c'è dentro Questa Questa Quella bibi la uso la mia La ultima E' mia bene perfetto mancano due team e noi saremo ecco mi sa che ci ammazzi ma c'è un'opportunità bene ok ragazzi mi sa che abbiamo vinto questa partita dai non ti preoccupare ma finisco io ma finisco io 9 coppie per noi lato 18 bene ragazzi ultima partita ecco ecco attrappano per il video ecco c'è una spiglia è bella ecco bene vai vai no scappo io non si vede mi sa che mi devo metter per forza a camper ma non si vede si vede andiamo e non c'è e poi e poi e poi e poi e poi e poi bene ragazzi vi è piaciuto lasciate like iscrivetevi al canale scrivete un commento ciao